Musica Musica Le popolazioni che hanno legato i loro destini a quello dei corsi d'acqua dei fiumi, ancora oggi come abbiamo visto, hanno dovuto imparare però subito qualcosa sulle caratteristiche fisiche del fiume. Altrimenti la convivenza sarebbe stata pericolosa. Per esempio quanto è veloce la corrente. Ecco, io qui sto entrando nel tagliamento appena a sud della stretta di Pinzano, in acqua, nella parte dove la corrente è meno veloce. Si può vedere, l'acqua sembra quasi ferma, però una certa resistenza, il mio corpo la oppone all'acqua, la sento proprio qui sugli stivari. Se mi spingo ancora più in là, vado cercando la zona più veloce del fiume. Che è proprio quella centrale. Lì l'acqua non ha un attrito col fondo, nella parte superiore, e non sente nemmeno le sponde. Dunque corre più velocemente. Quanto può essere questa velocità? Intanto cerco di arrivare il più possibile verso il centro. E può essere anche notevole. Diciamo che va da un minimo di un chilometro all'ora fino anche a 30 chilometri all'ora. Qui, nella zona del tagliamento, dove ci sono le rapide, forse si arriva quasi a 10 chilometri all'ora, invece dove non ci sono qualche chilometro all'ora. Ma quello che sorprende è che questa velocità, che sembra bassa, è in realtà sufficiente a trascinare via un corpo e anche oggetti ben più grandi di un corpo umano. Sono autovetture, camion, massi enormi come quelli che si vedono nella zona della sorgente. Ecco, adesso io più qua non riesco ad andare. Questa parete, che è a forma di calanchi, sarà circa una ventina di metri di spessore, è stata scavata dal fiume stesso. L'ha scavata da quella scingia erbosa che si vede in alto fino al livello dove mi trovo in questo momento. Grazie alla forza della sua corrente, alla sua velocità, ha inciso nuovamente i suoi stessi depositi. Si vedono infatti i ciottoli allineati secondo degli strati, sia più in alto che più in basso. E si vedono anche le sabbie, quelle più gialle, più marroni. Ecco, quello è quanto il fiume aveva depositato prima, poi ha scavato quei sedimenti e gli altri che erano già presenti fino ad arrivare al punto di oggi. Questi sono elementi che vanno tenuti presenti e che le popolazioni antiche riuscivano a tenere presenti per via istintiva. Certo, non per conoscenza scientifica di questi fenomeni. Se ci rifacciamo a quelle popolazioni che hanno maggiormente tratto forza dal loro rapporto col fiume, certamente non possiamo non considerare Roma da questo punto di vista. I romani con il dio del Tevere avevano un rapporto particolare, molto speciale. Determinato anche però dalla conoscenza degli elementi scientifici. E determinato successivamente da come gli ingegneri sono poi intervenuti. In particolare, Roma, qualche migliaio di anni fa, si trovava in un posto molto simile a quello che vediamo oggi, qui. C'era la catena montuosa dell'Appennino e poi una pianura, sommersa dal mare, che piano piano si ritira, su cui cominciavano a scorrere i grandi fiumi, Tevere compreso. Quei fiumi rispondevano sempre alle leggi fisiche della maggiore velocità da una parte e della minore dall'altra. E proprio in uno di questi punti, dove la velocità era minore, forse un ostacolo, forse un masso più grande, forse un albero, hanno consentito ai sedimenti di coagularsi attorno a una prima, primitiva isola fluviale. Quella che diventerà poi un tempo l'isola tiberina.